Fate entrare Panunzio Buongiorno dottor Ti ho portato una fotografia a ricordo della gloriosa squadra omicidie Si secca Si lo so Mio cugino è comunista Segretario di un sindacato Ma che ci posso fare In casa mia non ci mette mai i piedi Io poi non l'ho visto mai d'altra parte Anzi si per essere veritiero lo vedo ma Una volta all'anno a Natale Tutto Mi mancano solo due anni Non mi trasferisca Ho due figli che studiano Li devo controllare sotto tutti i punti di vista Come vanno le indagini a proposito del diritto d'erti? Abbiamo una buona traccia Nelle unghie della vittima La scientifica ha trovato un figlio di seta azzurra Che sembra strappata da una cravatta Ma l'assassino non ha operato da nudo Si E allora secondo voi era nudo Con la cravatta E' vero Nessuno ci aveva pensato Panunzio Panunzio Pangemo di seta azzurra Pangemo di seta azzurra Grazie a tutti.